Sono Virginia Ratti, presidente della Syncro Seregno, associazione sportiva dilettantistica che svolge la propria attività nella cucina di Seregno. Noi svolgiamo attività a carattere agonistico, dedicando però anche uno spazio alla pre-agonistica e all'attività ludica delle bambine piccole che vengono comunque avvicinate al mondo dell'agonismo. Lavoriamo con 5 allenatrici, quest'anno abbiamo 67 atlete, suddivise in diverse categorie dai 20 anni ai 6 anni. Le atlete partecipano a campionati nazionali di categoria e a campionati regionali e manifestazioni per quanto riguarda le più piccole. Abbiamo aderito a questa iniziativa di questo premio cercando di spiegare che noi destineremmo eventualmente il premio all'acquisto di materiale perché oltre alla quota associativa che serve per pagare le allenatrici di spazi acqua le famiglie devono pagarsi anche tutto quello che è il materiale, quindi destineremmo questo premio all'acquisto nello specifico di cuffie con il logo della società che vengono messe dalle atlete nelle gare di rappresentanza.